Il Ministro Bonino è intervenuto in aula per riferire sul caso Deimaro, come giudica le parole del Ministro? Il Ministro è intervenuto per non riferire o per riferire solo quello che le interessava, tacendo tutta una serie di responsabilità e soprattutto continuando a battere su un tasto che si è capito essere assolutamente inutile, cioè una sorta di pressione diplomatica informale su quelli che sono gli organismi internazionali, quando in realtà da mesi doveva essere fatto, ma questo non lo diciamo adesso, lo diciamo dall'inizio di questa esperienza tragica, insomma dura, dei due Marò, cioè che andava fatto il ricorso immediatamente sul piano internazionale applicando quelle che sono le normative internazionali della navigazione e soprattutto facendo valere il fatto che erano e sono militari, che compievano un'azione militare sotto legida, in parte anche sotto legida dell'ONU e che quindi se erano stati fatti degli errori devono essere in qualche modo valutati da un tribunale militare italiano, non sicuramente da un tribunale indiano. Quello che ci ha dato veramente fastidio è che per l'ennesima volta si voglia tacere sui motivi per cui hanno prima fatto andare in porto questa nave e poi respinto, in qualche modo regalato, relegato ad ostaggio di un governo, quello indiano, i due fuciliere di marina, per interessi economici. La gente è bene che sappia che il Comitato interministeriale per la sicurezza che ha deciso di rimandare in India i due Marò, a quel comitato lì stranamente quella sera rappresenta anche il Ministro dello Sviluppo Economico. Quindi quali interessi economici ci sono dietro? Questo ancora nessuno ce l'ha detto. E fin tanto che non si sblocca il perché e chi ha combinato questo pasticcio, difficilmente queste due persone potranno rientrare.